Del gruppo degli eletti fa parte anche Kimi Raikkonen che nel pomeriggio australiano si è ripresentato per la prima volta dopo due anni a una conferenza stampa ufficiale. In 24 mesi è cambiata solo la squadra, lui resta identico a quello che ricordavamo, sguardo stralunato, nascosto dagli occhiali da sole e mezze parole che escono dal microfono come un rantolo appena percettibile. Eppure sono tanti i suoi colleghi che lo tengono d'occhio, insomma pare che il talento, nonostante la pausa realistica, sia rimasto intatto.